Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta RadioNomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org Il De Deposito Fide e Purico Studiendo è uno dei sette schemi del Concilio Vaticano II approvati nel luglio del 1972 da Papa Giovanni XXIII ma mai portati in aula. L'abbandono di questi schemi, che secondo il regolamento avrebbero dovuto costituire la base della discussione, segnò una svolta capitale nella storia del Concilio Vaticano II. Il Concilio ritenne più urgente presentare in modo nuovo la fede della Chiesa piuttosto che riaffermarla con chiarezza contro gli errori che ad essa si opponevano. I testi promulgati vogliono avere una portata pastorale non dottrinale ma la conseguenza, negli anni successivi al Concilio, fu l'oscuramento della dottrina della fede fino al punto che Benedetto XVI nel 2012, un anno prima delle sue dimissioni, affermò che in vaste zone della terra la fede corre il pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più alimento. Siamo davanti ad una profonda crisi di fede, ad una perdita del senso religioso che costituisce la più grande sfida per la Chiesa di oggi. Lo schema di costituzione dogmatica sulla salvaguardia dell'integrità del deposito della fede, intravedendo la crisi incombente, considerava necessario ed urgente il ritrovamento dell'insegnamento tradizionale della Chiesa e la condanna degli errori ad esso contrapposti e si apriva ricordando le parole di San Paolo sul discepolo Timoteo. Custodisci il deposito, evita le chiacchiere profane e le obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla fede. Prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetti 20-21. Per questo, pur non essendo mai stato promulgato, lo schema sul deposito della fede costituisce un documento del Concilio Vaticano II che conserva oggi tutta la sua forza attualità e merita di essere riletto e approfondito. Il testo integrale, pubblicato dall'edizione Fiducia nel libretto Deposito on Custody, scheda di costituzione dogmatica sulla salvaguardia dell'integrità del deposito della fede, in latino viene presentato per la prima volta con una traduzione italiana, a fronte preceduto dall'introduzione del professor Roberto De Mattei. La prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, visite il sito www.radioromalibera.org.